Buongiorno, eccoci arrivati al momento in cui andiamo a parlare di un framework per realizzare applicazioni web lato client in particolare, come già accennato in questo corso, parleremo di React e quindi tutto quello che abbiamo visto finora va bene per aver fatto un po' di pratica aver provato a realizzare a mano un'applicazione web che sostanzialmente ci ha introdotto tutte le problematiche lato server ma soprattutto lato client di gestione del codice e avete già sperimentato per esempio il fatto che dovete scrivere codice HTML oppure comunque gestire tutti i metodi del DOM per costruire gli elementi all'interno della pagina e così via è sicuramente una cosa complicata e quindi se abbiamo qualcosa che ci aiuti in questo senso è chiaramente meglio quindi possiamo andare a vedere quello che andremo a fare in questa lezione e quindi cominceremo a impraticherci con uno dei framework più popolari per la realizzazione di applicazioni web che è appunto React e che abbiamo scelto in base a tutta una serie di considerazioni che ci hanno portato a ritenere che fosse un buon strumento da insegnare in questo corso ma comunque impareremo dei principi fondamentali che sono sostanzialmente in grado di guidarci e poi all'utilizzo di qualsiasi tipo di framework ovviamente adattandoci alle specificità del framework stesso quindi anche qui in React vedremo che le cose potranno essere fatte in diverse maniere e però comunque sempre adattandosi alla filosofia con la quale il framework è stato pensato quindi in questa lezione introduttiva parleremo dei principi di base sui quali si appoggia React come sono organizzate le applicazioni e poi successivamente parleremo di tutte le tecniche di programmazione che possiamo andare a utilizzare con questo framework ovviamente ci appoggiamo su tutta la conoscenza di javascript che abbiamo già visto nella parte precedente del corso e quindi avremo imparato a gestire tutta la serie di problematiche derivanti dall'utilizzo di un linguaggio come javascript all'interno del browser prima di tutto perché usare un framework? vedete qui sulle slide sostanzialmente il framework deve consentirci di semplificare lo sviluppo questo è il suo obiettivo e per esempio ci fornisce una maniera uniforme di gestire tutta la questione relativa al DOM sapete ci sono tanti metodi diversi per gestire il DOM proprio in termini di funzioni da richiamare perché è possibile richiamare eccetera e quindi come andare a costruire gli oggetti e così via e quindi se ci adattiamo ad una filosofia unica questo sicuramente ha dei vantaggi dal punto di vista della semplificazione abbiamo una gerarchia un po' più esplicita di tutta una serie di operazioni per esempio i componenti che ci consentono di astrarre quello che andiamo a visualizzare sulla pagina abbiamo componenti di più alto livello rispetto a quelli del semplice HTML e poi abbiamo un processamento un po' più automatizzato un po' più gestito in maniera ottimale degli eventi e degli aggiornamenti è ovviamente un framework che ci consente anche di semplificare il metodo di sviluppo perché? perché di fatto ci dà già delle indicazioni su come procedere quindi tutte le domande che ci facevamo ma è meglio mettere le cose in un certo posto in lato client piuttosto che demandarle a un modulo piuttosto che implementarle diversamente mantenere parte dello stato sul client, sul server eccetera andare a fare il richiesto insomma in un framework diciamo buona parte di queste domande sono già state risolte da chi ha pensato il framework quindi ha già dato un pattern di programmazione che tendenzialmente vogliamo seguire perché appunto abbiamo scelto di utilizzare questo framework non ultimo poi c'è anche la questione del fatto che se il framework è ben avviato come nel caso per esempio di React ci sono tantissimi plugin, estensioni cose che vi possono aiutare e magari vi forniscono già degli elementi dei componenti, dei pezzi di applicazione che volete realizzare già pronti all'utilizzo e in più, ecco, questa è una particolarità forse più di React ma in generale anche dei framework c'è sempre la questione di in che stato si trova l'applicazione web e quindi la gestione dello stato è sicuramente di uno degli aspetti affrontati da qualsiasi framework e quindi su questo aspetto si metterà anche l'accento all'interno del framework React dove andiamo a prendere le nostre informazioni? bene, è pieno ovviamente in rete di tutorial di risorse che danno delle indicazioni e noi abbiamo cercato di selezionare alcune che ritenevamo abbastanza ben fatte e utili per il corso quindi abbiamo questo react.js.org che ci consente di introdurci ai concetti principali di React poi ci sono ovviamente dei tutorial sempre sullo stesso sito c'è un tutorial che diciamo il cui obiettivo è di imparare diciamo provando che è quello anche che faremo un po' nel resto del corso e quindi queste sono delle risorse che riteniamo buone da questo punto di vista e poi ovviamente ci sono anche dei libri quindi delle risorse tipo cartaceo per esempio il full stack React tra l'altro un libro che viene costantemente aggiornato che è probabilmente una delle migliori guide presenti in questo momento disponibili in questo momento per React e poi c'è il nostro Flavio Cobbs che anche lui ha rilasciato questo handbook gratuito che potete facilmente scaricare che appunto ci dà qualche indicazione anche in termini di questo framework React infine ci sono anche degli strumenti di sviluppo integrabili direttamente nel browser per esempio per React ci sono i React Developer Tools che si chiamano nella stessa maniera che trovate sul Chrome Store piuttosto che sul Firefox Addons e sostanzialmente ci installano un piccolo plugin all'interno del nostro browser che ci semplifica la gestione o meglio la visualizzazione e il debugging dei componenti che sono un elemento fondamentale di React come andremo a vedere quindi sostanzialmente ci spunto un nuovo tab che ci consente di andare a ispezionare in maniera molto più facile i componenti e quindi non solo più vedere l'HTML che corrisponde al DOM ma proprio vedere la struttura gerarchica dei componenti con le sue proprietà stato eccetera cioè tutto quello che è rilevante per il framework React ci addentriamo ora nei diciamo facciamo ora i primi passi all'interno di React e quindi cominciamo a parlare dei principi che ne hanno guidato il design il progetto così da capire nella filosofia e quindi sapere come muoverci e poi come iniziare a lavorare all'interno del framework prima di tutto React è dichiarativo nel senso che in React a differenza di quello che abbiamo fatto finora con JavaScript non andremo mai a manipolare in maniera esplicita il DOM cioè non andremo mai a fare un getElementById direttamente in Windows e così via questo genere di cose inserire direttamente il codice HTML nel DOM innerHTML e così via inoltre non saranno mai definite in maniera esplicita le ordine delle operazioni nel senso che ci pensa il framework che puoi gestire le operazioni di aggiornamento per esempio della pagina e di tutte le operazioni che devono essere svolte lato applicazione web e quindi l'unica cosa che sostanzialmente dobbiamo fare in React come filosofia è definire come ogni componente e che l'elemento base che andremo ad inserire all'interno delle nostre pagine web eventualmente annidando componenti diversi per specifici scopi dobbiamo definire come ogni componente deve farsi visualizzare quindi questa operazione di render che sostanzialmente è quella che disegna il componente poi all'interno della pagina web e quindi va poi tramite i metodi interni di React a creare il DOM corrispondente al componente stesso alcune idee fondamentali alla base del framework React prima di tutto ha un approccio diciamo di design di tipo funzionale quindi ragioniamo in termini di funzioni che chiamate producono lo stesso risultato a fronte dei stessi parametri quindi sono sostanzialmente senza stato a meno che non abbiamo uno stato esplicito che però va manipolato in una certa maniera molto attenta abbiamo i componenti che sono appunto gli elementi che compongono la nostra applicazione web e che quindi vengono visualizzati all'interno della nostra pagina del browser e che ci consentono quindi di realizzare sostanzialmente le varie viste le varie viste della nostra applicazione una delle idee fondamentali che sta alla base di React è quella di fare il re-rendering di tutto ogni volta che c'è un cambiamento cambiamento anche piccolo ovviamente detta così sembra una cosa un po' diciamo eccessiva e in effetti poi nella pratica questa operazione verrà svolta in una maniera molto efficiente per cui diciamo non abbiamo una penalizzazione eccessiva da questo diciamo principio di funzionamento del framework però concettualmente possiamo pensare che ogni volta che cambiamo qualcosa è come se la pagina venisse ridisegnata interamente quindi ricreata interamente da zero abbiamo poi il virtual DOM che sostanzialmente è un DOM che è quello su cui poi sostanzialmente possiamo agire e che verrà mappato poi automaticamente dal framework sul DOM reale per andare a creare diciamo gli elementi nel DOM reale che quindi vengono poi visualizzati dal browser abbiamo tutto un meccanismo per gestire gli eventi tramite questi eventi sintetici che affronteremo poi più avanti e vogliamo poter ovviamente controllare in maniera attenta esplicita lo stato della nostra applicazione quindi dovremo assolutamente fare attenzione a definire bene qual è lo stato della nostra applicazione in termini di sostanzialmente variabili javascript che ci consentono di definire lo stato stesso e quindi qualcosa di collegato allo stato dell'applicazione vediamo ora ognuno di questi aspetti in maniera leggermente più approfondita react usa questo approccio di tipo funzionale nel senso che un elemento della user interface dell'interfaccia grafica deve essere creato solamente sulla base di una funzione che possiamo pensare alla funzione javascript diciamo pure così comunque è funzione questo elemento solamente di qual è il suo stato stato interno e quali sono i valori delle sue proprietà props è semplicemente un'abbrovizione di properties che viene usata ampiamente in react per abbreviare il termine tra l'altro notate che molti componenti non hanno necessità di gestire uno stato e quindi sostanzialmente per molti componenti quindi molti componenti della user interface questo vuol dire che saranno funzione solamente delle loro proprietà che sostanzialmente potrebbero definirne per esempio l'aspetto e cose di questo tipo e quindi questo vuol dire che molte di questi componenti sono idempotenti e immutabili nel senso che non avendo uno stato questi vengono visualizzati sempre nella stessa maniera nel momento in cui le loro proprietà sono le stesse quindi hanno gli stessi valori relativamente alla questione dell'immutabilità React sfrutta questa immutabilità degli oggetti sostanzialmente per facilitare la programmazione e diciamo avere la possibilità di fare un processamento efficiente di tali oggetti quindi le parti props dei componenti è immutabile quindi questo vuol dire immutabilità cioè nei componenti sostanzialmente abbiamo delle proprietà che non sono mutabili dal componente stesso quindi non possono cambiare di valore all'interno del componente e quindi sono ridonli per il componente e lo stato se presente non è modificabile direttamente è possibile modificarlo ma devo fare una chiamata apposta la set state del framework che sostanzialmente dice al framework attenzione sto modificando lo stato e quindi questo scatenerà tutta una serie di opzioni che di fatto portano poi alla fine ad aggiornare sia lo stato chiaramente del componente ma anche la vista che questo componente se necessario che questo componente mostra all'interno della pagina le funzioni sono tutte pure nel senso che non hanno effetti collaterali ad eccezione ovviamente di calcolare il loro valore di ritorno e quindi sono funzioni idempotenti e predicibili e sostanzialmente sono gli stessi è lo stesso approccio di quello che avevamo chiamato programmazione funzionale quando abbiamo parlato di programmazione funzionale volevamo avere delle funzioni che il cui valore di ritorno sostanzialmente dipendesse solo da cosa mettiamo in ingresso che quindi sono i parametri e quindi le possiamo richiamare più volte con gli stessi parametri e siamo sicuri che ritorna sempre lo stesso risultato e quindi per esempio nel caso dei componenti re-act vengono renderizzati sempre nello stesso modo quindi re-rendering the same component quindi fare il render di nuovo dello stesso componente dà lo stesso risultato perché se la funzione è così idempotente questo è il risultato un'applicazione è composta di componenti e quindi abbiamo questi componenti che sono l'uno annidato nell'altro oppure messi in sequenza eccetera un po' come facciamo con gli elementi tag dell'html e tutte le volte che c'è un cambio nello stato o nelle proprietà abbiamo che l'applicazione l'applicazione intera viene rirenderizzata quindi ridisegnata sullo schermo almeno questo a livello teorico dal punto di vista di cosa dice di fare framework quindi ogni componente verrà ricostruito si auto ricostruirà anzi dal nulla quindi da zero e tra l'altro a seconda dello stato delle proprietà chiaramente a fronte dello stesso stato stesse proprietà si ricostruirà nella stessa identica maniera però nel momento in cui cambia qualcosa o nello stato o nella proprietà potranno esserci piccole o grandi variazioni ovviamente vi potreste chiedere che effetto ha sulle performance un approccio di questo tipo cioè tutte le volte che cambiamo un singolo valore in una singola proprietà in realtà e ridonli quindi deve farlo qualcun altro dall'esterno oppure decidiamo di cambiare lo stato all'interno del componente tramite una chiamata apposita scateniamo il rendering di tutta la pagina questo a livello teorico ma a livello pratico in realtà per migliorare la performance siccome le modifiche al DOM sono costose perché vuol dire sostanzialmente scatenare tutte le procedure all'interno del browser che ricalcolano il layout la posizione degli oggetti applicano lo stile eccetera eccetera quindi tutta una serie di operazioni complesse come quelle che avvengono nel momento in cui caricate la prima volta la pagina per risolvere questo problema in React in realtà c'è il meccanismo diciamo intermedio che è quello che dicevamo prima cioè c'è questo virtual DOM che è una struttura interna di React mantenuta semplicemente nella memoria ottimizzata e molto veloce da aggiornare quindi noi quando andremo a fare delle modifiche all'interno dei componenti vogliamo che queste vengano poi visualizzate sull'interfaccia utente andremo a interagire con questo virtual DOM dal livello di codice e poi ci penserà a React in maniera automatica a riportarle sul DOM quindi in maniera computazionalmente efficiente tra l'altro avere questo strato addizionale ci aiuta a correggere alcune piccole anomalie asimmetrie del DOM che ogni tanto forse abbiamo intravisto quindi metodi e cose che diciamo o meccanismi di annidamento o tag eccetera che diciamo avrebbero potuto essere progettati in una maniera forse migliore dal punto di vista dell'HTML quindi visto che questa struttura è virtuale ed è definita sostanzialmente dal framework quindi qui possiamo fare diciamo chi ha inventato React ha progettato React ha cercato di farla il più coerente il più coerente tra l'altro questo virtual DOM è anche utile perché ci consente di gestire degli eventi appunto sintetici quindi al di fuori degli eventi che vengono gestiti all'interno del DOM che vengono quindi presi in carico in quel caso direttamente da React per gestirli e processare in una maniera più efficiente possibile dopo che i componenti hanno fatto di nuovo l'operazione di rendering a seguito del fatto che abbiamo cambiato qualcosa per esempio nello stato sostanzialmente React calcola le differenze tramite il vecchio DOM e il nuovo modificato virtual DOM e quindi la prima cosa che fa è calcola il nuovo virtual DOM fa la differenza col vecchio virtual DOM e con un algoritmo efficiente va a verificare quali sono le differenze e queste vengono applicate e solo queste vengono applicate al DOM del browser quindi quello che sostanzialmente si vede alla fine di tutta l'operazione quindi che va a modificare effettivamente la user interface che vede l'utente tutto questo per dire come funziona internamente per poi capire qual è la filosofia di utilizzo e che cosa stiamo facendo nel momento in cui andiamo a fare delle modifiche che potrebbero sembrare modifiche del DOM ma in realtà sono di questo virtual DOM vediamo quindi qual è il meccanismo un po' più in dettaglio quindi il meccanismo è ciclico ogni volta che facciamo una modifica nello stato sostanzialmente andiamo a scatenare questo update che calcola all'interno del virtual DOM tutto ciò che deve essere cambiato e nel momento in cui abbiamo calcolato ciò che deve essere cambiato andiamo a fare l'aggiornamento quindi all'interno del DOM del browser che effettivamente fa visualizzare la modifica all'utente quindi internamente React calcola il minimo insieme di cambiamenti necessari li mette in coda e poi li invia al browser per effettuare il cambiamento stesso nell'interfaccia parliamo ora brevemente di eventi sintetici e quindi React implementa il suo sistema di eventi proprio quindi ci disaccoppia questa gestione degli eventi da quella del browser quindi c'è un singolo event handler alla radice di ogni componente e con questo interagiremo e questo fa anche sì che possiamo non preoccuparci più delle specifici implementazioni degli eventi all'interno dei vari browsers di come vengono gestite del DOM eccetera verranno prese tutte in carico del framework che si preoccuperà di essere compatibile tra browser con i vari DOM e così via anche se sono abbastanza standardizzate però qualche piccola incompatibilità potrebbe esserci e noi dobbiamo quindi gestire gli eventi solamente in un unico posto che è la radice del componente diamo ora un'occhiata come diciamo appare il codice javascript che scriveremo con react ovviamente questo è solo un piccolo esempio tanto per prendere pratica inizialmente far pratica inizialmente quindi diciamo che noi dobbiamo per ogni componente definire un metodo render al quale dobbiamo dire che questo metodo render sostanzialmente ci consente di dire che cosa deve apparire all'interno di un container nel momento in cui questo deve essere inserito all'interno della pagina e questo è quello che vorremmo che comparisse che sostanzialmente l'elemento react quindi il contenuto del componente e dove dobbiamo andarlo a mettere quindi l'equivalente diciamo di quello che scriveremo in javascript come appunto codice html ciò che vogliamo inserire per la visualizzazione e dove questo va messo la differenza è che qui non facciamo appunto dom append eccetera ma sostanzialmente dobbiamo dare questi due parametri come avrete forse notato qui a sinistra abbiamo scritto del codice html in qualcosa che sembra del codice javascript in effetti questo esterno è del codice javascript e questo è codice html ovviamente se provate a eseguire un codice di questo tipo chiaramente non potrà essere eseguito perché questo è html e non è codice javascript react semplifica diciamo un po' questa la gestione del codice html all'interno appunto del codice che dobbiamo scrivere in react tramite una speciale sintassi che si chiama jsx che di fatto ci consente di scrivere il codice html dentro codice javascript e questo verrà automaticamente tradotto oppure transpilato come diciamo traducendo direttamente dall'inglese tramite una specie di compilatore in particolare babble più diffuso che di fatto va a tradurre questo in un codice javascript equivalente quindi che so react dom quindi il dom virtuale di react prendi un elemento div e dentro gli metti la proprietà id uguale a test quindi attributi id uguale a test e poi crea dentro un elemento h1 quindi senza attributi con un certo valore nel testo e così via quindi questo viene fatto automaticamente per noi e quindi questo viene creato automaticamente per noi e il resto se il codice diciamo javascript è valido può anche restare così osserviamo quindi adesso avendo esplorato diciamo in vari aspetti principali di react che il meccanismo di gestione di react è di fatto un flusso unidirezionale dei dati quindi quindi abbiamo che lo stato viene passato alla vista e ai componenti figli all'interno del componente che deve essere renderizzato eventualmente vengono delle azioni diciamo causate dall'interazione con la vista quindi l'utente interagisce e queste azioni di fatto vanno ad aggiornare lo stato del componente e secondo una certa logica che è la logica che scriveremo noi per il codice javascript e nel momento in cui cambiamo lo stato come dicevamo prima si scatena di nuovo l'aggiornamento della vista e di nuovo nel momento in cui ci saranno delle azioni che partono dalla vista di nuovo si scatenerà questo ciclo e quindi c'è sempre questo ciclo di aggiornamento della vista che riflette quello che deve capitare diciamo così secondo della logica dell'applicazione a fronte di certe azioni come corollario di quanto abbiamo visto prima possiamo quindi dire che lo stato è quindi gestito sempre da un solo componente perché altrimenti quel processo ciclico non funzionerebbe quindi questo processo che ci gira dallo stato alla vista alle azioni deve essere in grado di ovviamente aggiornare tutta la vista e quindi i dati che sono diciamo impattati dalla modifica dello stato devono essere quelli del componente o eventuali componenti interni quindi annidati all'interno dello stesso quindi i suoi diciamo così figli quindi cambiare lo stato di un componente non deve mai avere effetti su quello dei suoi componenti padri o i componenti diciamo fratelli sorelle e così via o altri componenti nell'applicazione che non siano i figli perché altrimenti rompiamo questo meccanismo di funzionamento e quindi questo ha la conseguenza di mettere lo stato sempre in un punto dove sostanzialmente può essere condiviso tra componenti se questa cosa è necessaria e quindi al più questo stato andrà sempre più in su nell'albero dei componenti e se necessario sarà condiviso tra tutti i componenti dell'applicazione perché sta sul componente padre però l'idea è quella di avere lo stato diciamo il più possibile vicino a componenti che necessitano e conosce questo stato considerando però che appunto c'è questa regola da mantenere che un cambio di stato può avere effetto solamente sul componente dei suoi componenti discendenti quindi i suoi figli cosa sono i componenti i componenti sostanzialmente su tutto quello che si vede in una pagina una pagina creata con React quindi possono addirittura anche essere semplici tag HTML ovviamente i componenti come abbiamo già detto più volte possono essere anidati e il metodo render di React ci consente di costruire un componente e attaccarlo a un componente container DOM quindi sostanzialmente se vedete per esempio qui abbiamo un esempio del contenuto di una pagina che ha un componente padre di tutti in cui ci sono due sotto componenti nel componente di sinistra ci sono tre elementi quindi due componenti o forse tre componenti dello stesso tipo magari questo con la proprietà che può far vedere un'immagine e qui abbiamo due componenti tipo diverso uno per l'about uno per i links questa è una pura ipotesi per far capire che tipo di struttura può avere una pagina React sto formandoci un istante ancora su questo esempio potremmo pensare appunto alla gerarchia dei componenti presenti qui e quindi abbiamo dei componenti che potremmo classificare sostanzialmente come componenti di presentazione come questi per esempio che ci mostrano il post un post all'interno del blog e quindi qui in questo caso ne abbiamo tre questo potrebbe essere un componente di presentazione differente oppure un componente lo stesso componente con una proprietà differente che fa sì che venga mostrata anche un'immagine piuttosto che non mostrare l'immagine stessa e poi potremmo avere un componente che invece è di fatto invisibile sullo schermo ma fa la gestione di questi componenti figli e quindi decide per esempio quanti visualizzarne e per esempio riceve riceve degli eventi da questi componenti figli e quindi è un componente che mantiene lo stato relativo a che cosa viene visualizzato nel momento in cui avessimo che se un bottone elimina su uno di questi post e questo bottone elimina potrebbe semplicemente andare a richiamare una callback che va ad agire come codice all'interno del codice del componente padre che sostanzialmente modifica il suo stato in maniera da far sparire dal suo stato uno dei componenti di presentazione del post oppure magari va anche a comunicare con il server web quindi con un meccanismo asincrono tramite una delete per esempio o qualche altro meccanismo o rest e così via che l'utente ha voluto eliminare un certo post e quindi va a fare questa comunicazione e poi decide che cosa far visualizzare come componenti figli quindi quali componenti figli anzi inserire e poi alla visualizzazione come sempre ci pensa poi react che decide che cosa deve essere visualizzato sostanzialmente andando a chiamare in metodi render di ognuno dei componenti e quindi questo componente pad è di fatto incaricato di gestire diciamo a livello di componente i componenti figli quindi sostanzialmente dobbiamo adeguarci a questo meccanismo di react che ci impone questa gestione sostanzialmente dello stato e della gestione a componenti diciamo di quello che è contenuto all'interno della nostra applicazione web perché questo è il modo di operare di react e in realtà ci risolve anche una serie di problemi che per esempio se pensate all'esercizio che avete fatto con i task per il laboratorio vi siete sempre posti il problema di dove mantenere lo stato e magari qualcuno pensava dove mantengo la lista in questo caso dei posti ma nel caso del laboratorio dei task la mantengo dentro sostanzialmente è la lista degli oggetti nel DOM e quindi lì dentro nel momento in cui voglio andare a aggiungere un oggetto togliere un oggetto eccetera agisco direttamente sul DOM o piuttosto mantengo una struttura dati parallela che però poi devo in qualche maniera sincronizzare col DOM nel momento in cui ho l'array dei tasks che magari sono oggetti che ho creato io nel codice javascript e però nel momento in cui cancello uno devo andarlo a cancellare dal DOM ne viene inserito uno devo andarlo a inserire sia nell'array sia nel DOM e così via quindi tutte queste questioni di gestione e di visualizzazione eccetera vengono affrontate da ogni framework in una maniera peculiare secondo la sua filosofia e noi stiamo cercando di imparare un po' quella che è la filosofia di React che appunto è basata sui componenti tutto un componente e dove è necessario si mantiene uno stato che è sostanzialmente quello che su cui poi andiamo ad agire a livello dell'applicazione quindi a livello di codice e la parte di visualizzazione viene risolta da React tramite appunto questo metodo render che ci dice sostanzialmente quale aspetto deve avere il componente nel momento in cui deve essere visualizzato sulla base delle sue proprietà e del suo stato ovviamente ritorneremo su queste cose più avanti però diciamo ci tenevo a darvi una piccola anticipazione per far capire appunto in che direzione stiamo andando nel momento in cui stiamo cercando di utilizzare un framework in questo caso come React ovviamente possiamo definire dei componenti di tipo custom nel senso che sostanzialmente mettiamo insieme più elementi HTML come abbiamo già intravisto prima quindi possiamo definirli in questa maniera cioè tramite di fatto una funzione che sostanzialmente ritorna il codice HTML che descrive il componente che quindi può anche contenere elementi HTML annidati come in questo caso e ovviamente come abbiamo visto prima questo verrà poi convertito in codice JavaScript da quel transcompilatore che però diciamo per noi è trasparente e verrà gestito in maniera automatica all'interno del nostro progetto React e quindi possiamo effettivamente scrivere questa cosa direttamente nel codice JS che viene poi appunto compilato in questa maniera automatica e questo se vogliamo fare il componente sotto forma di funzione che ritorna degli elementi del DOM oppure possiamo usare un approccio orientato ad oggetti e quindi usare una classe che quindi deve estendere component che è la classe diciamo di base da cui estendiamo i nostri componenti in React che quindi in questo caso allora va importata per appunto averne la visibilità e dentro questa classe l'unica cosa che dobbiamo fare per definire il componente è definire che cosa fa il suo metodo render e che sostanzialmente farà la stessa cosa che veniva fatta prima quindi ritorna questo HTML che di nuovo verrà compilato in codice JavaScript prima di farlo eseguire al browser possiamo avere diversi tipi di componenti sostanzialmente abbiamo i componenti di tipo presentazione che quindi si incaricano solamente di presentare dei contenuti e non gestiscono uno stato quindi questa è la caratteristica principale o meglio diciamo che possono avere magari uno stato interno per esempio per questioni di visualizzazione ma di fatto appunto è solo esclusivamente per una questione di visualizzazione non di gestione dello stato dell'applicazione stessa e poi abbiamo diciamo i componenti di tipo container che gestiscono lo stato di un gruppo di componenti figli e eventualmente possono fare tutte le operazioni necessarie a far funzionare l'applicazione quindi per esempio interagire col back end quindi fare chiamate di rete e così via e tipicamente creano degli elementi figli di tipo presentational quindi destinati alla presentazione per visualizzare l'informazione in questi componenti tipicamente non abbiamo lo stato o meglio ce ne abbiamo solo a fini interni se necessario a fini di presentazione arriviamo quindi all'ultimo elemento che abbiamo necessità di conoscere in questa veloce introduzione che sono lo stato e le proprietà le proprietà sono passate da un componente a un componente dal suo componente padre tipicamente sono valori per configurare come il componente visualizza le informazioni quindi c'è un flusso top to bottom dall'alto in basso che dice al componente come visualizzare determinate informazioni sempre che so gli danno informazioni relative a qualcosa che diciamo è necessario sia condiviso dal componente padre ai vari componenti figli per mantenere una visualizzazione uniforme su tutta la pagina tra l'altro le proprietà oltre che singoli valori possono anche essere delle funzioni siano proprietà javascript di un oggetto quindi sostanzialmente possono anche essere delle callback che consentono così al componente di poter fare accesso a dei metodi sull'elemento padre per esempio quando c'è necessità di fare delle azioni questo è particolarmente utile lo stato invece sono un insieme di variabili che sono locali al componente stesso abbiamo detto che se il componente ha uno stato questo stato interno ha il componente lo stato può anche essere inizializzato dai valori delle proprietà ecco una cosa importante importantissima in React che l'unico modo diciamo che è consentito da React per andare a modificare lo stato è quello di usare la funzione apposita il metodo apposito punto set state perché React deve essere notificato di questo cambiamento quindi non potete semplicemente prendere le proprietà dello stato e andare a scriverci dentro perché così facendo rompete il modello di React e React non si accorgerà della modifica non scatena tutto quanto è necessario per andare a fare l'aggiornamento della user interface quindi l'aggiornamento del virtual DOM che poi deve essere verificato sul virtual DOM precedente calcolate le differenze e riportato sulla user interface notate che il metodo set state set state che imposta lo stato è asincrono e per definizione inizierà un'operazione di ricalcolo della visualizzazione sul virtual DOM che poi avrà a sua volta un effetto a catena e quindi se necessario andrà a modificare la visualizzazione nel DOM reale del browser che cambia la user interface tra l'altro ecco lo stato può anche essere passato ai processi figli come proprietà ma passandolo appunto come proprietà poi non è più modificabile perché abbiamo detto che le proprietà sono di tipo read only però è accessibile perché magari i processi figli potrebbero avere necessità di condividere lo stato per lo meno di poterlo leggere per fare modifiche vedremo poi come fare però siccome lo stato deve essere mantenuto all'interno di un componente abbiamo detto che il componente deve essere quello padre quindi quello comune a tutti i componenti che hanno necessità poi di andare a lavorare con questo stato proviamo quindi ora che abbiamo i concetti fondamentali di React andare a creare una prima applicazione React quindi facciamo l'equivalente di provare a scrivere il famoso Hello Word da cui si inizia in tutti i linguaggi di programmazione tutti i sistemi questo è un framework in tutti i diciamo modi di programmare che incontriamo durante la nostra carriera diciamo così di sviluppatori cominciamo ovviamente da un esempio piccolino semplice e quindi identifichiamo un elemento container all'interno del nostro HTML e quindi per esempio iniziamo con un div all'interno dell'HTML che avrà come ID React container e che sarà il punto in cui andiamo a montare così si dice il componente all'interno dell'elemento tutto il resto dell'HTML non sarà toccato da React perché React lavorerà solamente in questo in questo elemento HTML come d'uso andremo a caricare le librerie così come abbiamo già fatto con Bootstrap eccetera del framework e quindi dovremo caricare le librerie di React e React DOM cariceremo le versioni development che ci facilitano per diciamo andare a lavorare in fase di sviluppo con React poi ci sarà poi una maniera diciamo che nel momento in cui queste applicazioni dovranno essere rilasciate chiaramente queste cose andranno modificate ma diciamo per noi per ora va bene così e usiamo le versioni di sviluppo che sono con cui è più facile interagire debuggare e lavorare e ovviamente caricheremo anche il nostro script javascript quindi diciamo il main.js nel quale andremo a scrivere del codice che utilizzerà le funzionalità messe a disposizione da React andiamo quindi a vedere cosa è possibile fare nel momento in cui abbiamo caricato la libreria di React nel nostro diciamo esempio particolarmente semplice in cui carichiamo React a mano giusto per fare una prima prova poi vedremo come effettivamente andare a sviluppare tutto il resto con un sistema di sviluppo diciamo più serio più efficiente dal punto di vista dell'aiuto allo sviluppatore però in questo semplice esempio quindi editiamo il nostro file js che contiene il codice che vogliamo utilizzare per creare l'elemento di il componente scusate di React e quindi andiamo a crearlo tramite il meccanismo della classe che abbiamo visto per ora essere più flessibile poi vedremo anche poi quello con le funzioni che diciamo è stato anche recentemente esteso per essere flessibile esattamente come quello delle classi per esempio tramite il meccanismo del jucco che ci consente anche in quel caso di manipolare lo stato però diciamo senza esulare senza fare un discorso che esula da quello che vogliamo vedere qui in questo momento è un semplice esempio poi tutto il resto lo vedremo più avanti qui creiamo il nostro welcome button che è un componente react che quindi estende react component ha un suo costruttore che riceve delle proprietà perché abbiamo detto che come funziona react i passaggi diciamo dei parametri ai costruttori avvengono sostanzialmente tramite le proprietà questo è il nostro primo costruttore quindi eventualmente riceverà delle proprietà dal del componente padre dentro il quale eventualmente era chiuso e quindi le prende come parametri del costruttore la prima cosa che è sempre bene fare è chiamare il costruttore della classe padre con gli stessi parametri del costruttore e poi possiamo definirci in questo componente molto semplice che è un componente quindi di presentazione nel quale sostanzialmente vogliamo gestire un bottone e far cambiare quello che appare sulla scritta del bottone stesso sulla base dell'informazione di stato che abbiamo e quindi nel costruttore inizializziamo uno stato privato diciamo così quindi una variabile che o meglio una proprietà della classe e quindi che accediamo col dis per fare in modo che rimanga proprietà della classe alla quale assegniamo un oggetto che conterà il nostro stato l'oggetto è particolarmente semplice in quanto è un oggetto che ha un'unica proprietà questa proprietà english che ha un valore che noi definiamo essere booleano quindi decidiamo se sostanzialmente scriviamo in inglese o in italiano nel momento in cui abbiamo deciso cosa deve contenere il nostro stato abbiamo creato il nostro componente e poi il componente come abbiamo già detto prima deve fornire un modo a React di far vedere come di creare la sua presentazione quindi di dire che cosa bisogna fare per rappresentarlo all'interno prima di tutto del suo DOM del suo virtual DOM e poi React provvederà a fare tutte le operazioni necessarie a riportarlo nel DOM del browser quindi il metodo è il render e questo metodo render sostanzialmente ci ritorna un facciamo ritornare a questo metodo render un React create element col quale andiamo a creare un bottone quindi non usiamo la sintassi JSX per ora JavaScript XML che è stato introdotto appunto da React e che però deve essere gestito tramite tutta una serie di librerie e tool che in questo semplice esempio non utilizziamo e lo utilizziamo dopo nell'esempio diciamo più più sofisticato da questo punto di vista qui quindi facciamo tutto a mano e quindi utilizziamo direttamente il metodo nativo di React create element e diciamo di creare un elemento di tipo button con una serie di proprietà che sono definite in questo oggetto tra un attimo ci arriviamo e poi con quello che deve essere inserito dentro l'elemento HTML stesso quindi l'elemento button e questa è sostanzialmente la scritta che vogliamo appaia sul bottone perché ci sarà un minore button maggiore e un testo e poi minore button slash maggiore e questa è la parte più semplice vogliamo semplicemente che la scritta che inseriamo dipenda dal valore della variabile di stato quindi dal suo stato in particolare dalla proprietà english dello stato che è accessibile quindi da this.state e se è true sarà hello altrimenti sarà ciao molto semplice vediamo la proprietà cosa facciamo nella proprietà qui potremmo definire una serie di attributi che vogliamo inserire oppure utilizzare degli attributi già predefiniti come per esempio c'è la possibilità di usare questo onclick che ovviamente è un callback che potrà essere che verrà richiamata nel momento in cui accadrà l'evento click sull'elemento che abbiamo creato quindi solita callback arrow function e questa callback quindi che cosa deve fare questa callback deve cambiare il contenuto del del testo del bottone e notate bene lo fa con questo meccanismo del set state perché nel momento in cui cambiamo lo stato react reagirà questo cambiamento di stato e lo farà sostanzialmente ridisegnando ricreando la user interface di tutti i componenti che è necessario ricreare all'interno del DOM quindi in questa callback a differenza di quello che avremmo scritto in un diciamo quando programmiamo noi in javascript e quindi a mano sostanzialmente andiamo a fare tutte le operazioni prendiamo il DOM andiamo a cambiare che sono il contenuto l'inner html piuttosto che linear text eccetera dopo aver avuto riferimento all'elemento eccetera qui non si fa nulla di tutto ciò è tutto gestito automaticamente dal framework quello che dobbiamo fare noi è agire sullo stato questo è uno stato di presentazione e quindi sostanzialmente cambiando questo stato in questo componente di presentazione ma in generale cambiando lo stato in qualsiasi componente react va a calcolare che cosa deve cambiare nella interfaccia utente e va a fare la modifica notate anche che per fare la modifica non scriviamo semplicemente this.state uguale punto schermativo this this.state punto english uguale punto schermativo this.state punto english cosa che in teoria se noi non conoscessimo react potremmo fare ci verrebbe forse anche naturale farlo è una variabile a cui abbiamo accesso il riferimento all'oggetto che contiene lo stato andiamo dentro lo stato e andiamo a fare una modifica questo non bisogna mai farlo in react su questo comunque torneremo nelle prossime lezioni l'operazione deve essere fatta sempre col set.state che quindi ovviamente sarà un metodo che abbiamo reso accessibile tramite l'estensione del react component e questo set.state fa l'operazione di andare a cambiare lo stato e quindi dice a react attenzione che lo stato di questo componente è cambiato e per verificare che cosa è cambiato nello stato un'altra regola di react che di nuovo impareremo nelle prossime lezioni è quella che è necessario creare sempre un nuovo riferimento se abbiamo oggetti complessi quindi come nel caso di oggetti array e così via questo è un oggetto come stato è un oggetto e quindi è necessario dire di impostare un nuovo stato e questo nuovo stato deve essere necessariamente tutto l'oggetto e quindi devo per forza aprire il graffa chiusa il graffa e creare un nuovo oggetto questa scrittura dell'Object Literal crea un nuovo oggetto quindi un nuovo riferimento e quindi react sarà in grado di capire che lo stato effettivamente è cambiato è cambiato tutto crearlo ovviamente è facile basta aprire la graffa English e due punti e a questo punto possiamo calcolare il nuovo stato su cui vogliamo andare a finire ovviamente utilizzando lo stato corrente se necessario come in questo caso facendo il negato del valore booleano this state English quindi questo ci dà una piccola diciamo idea di quello che deve essere fatto per programmare in react quindi come dicevamo all'inizio dobbiamo adeguarci all'insieme di regole che diciamo sono sono da seguire nel framework e piano piano impareremo queste regole di react con l'idea che sostanzialmente nel momento in cui avremo a che fare con un altro framework basterà adeguarci a quelle insieme di regole dell'altro framework comunque conoscendo quello che stiamo facendo grazie al fatto che abbiamo imparato tutta una serie di diciamo caratteristiche del linguaggio javascript che sono comuni a tutti questi framework ovviamente e che ci consentono di capire esattamente quello che stiamo facendo e quindi qui non abbiamo alcun dubbio che nel momento in cui per esempio apriamo la graffa per scrivere un object literal stiamo creando un object literal che è diverso da quell'altro e il riferimento è diverso e quindi questa è una delle richieste che ci fa react per riuscire a capire facilmente che cosa è cambiato all'interno degli stati e quindi calcolare in maniera efficiente le differenze e tutto quanto quindi tutto ciò che abbiamo imparato nella prima parte del corso ovviamente rimane indipendente dai framework dal framework o dai framework che vorremmo poi utilizzare sul lato o vorrete utilizzare sul lato del client noi chiaramente abbiamo preso uno che è abbastanza popolare abbastanza diffuso quindi facciamo vedere qualcosa che speriamo serva anche nell'immediato però nel futuro se vi troverete a dover lavorare su altri framework altri diversi appunto da react avendo appreso più o meno come funziona un framework e sapendo perfettamente come funziona il linguaggio javascript al di sotto quindi potendovi fare anche un'idea di cosa vuol dire ogni istruzione esattamente che stiamo iscrivendo nel linguaggio javascript per usare il framework quali effetti a eccetera eccetera ovviamente dovremmo essere sufficientemente flessibili per riuscire a lavorare efficacemente con qualsiasi framework in futuro si sviluppasse anche qualsiasi modifica innovazione che avviene anche nello stesso framework in react e in sviluppo e quindi mano a mano viene anche cambiato per esempio c'è la questione appunto relativa agli hooks che sono stati introdotti abbastanza di recente e che vengono parecchio spinti diciamo dagli sviluppatori di react rispetto a questo approccio di sviluppare i componenti a classi noi comunque riteniamo che sia giusto far vedere un po' entrambi gli approcci così intanto da un lato facciamo ben pratica con il linguaggio javascript in casi reali e dall'altro comunque riteniamo che almeno per un po' comunque entrambi gli approcci conviveranno quindi ho fatto una lunga digressione perché ci teneva appunto a far capire che quello che andiamo a fare pur in questo momento non conoscendo diciamo tutti i dettagli come funziona react comunque deve essere qualcosa che da un lato ci insegna a usare react però dall'altro ci dà anche un'idea di come funziona un framework perché conosciamo come funziona anche il linguaggio i meccanismi i sottostanti che vengono utilizzati dal framework che mano a mano evidenzieremo qualora saranno necessari a questo punto dobbiamo fare in modo che questo componente venga renderizzato quindi visualizzato dentro il suo container e quindi questo è quello che dobbiamo fare andare a recuperare il nostro react container nel codice html di prima quindi questo nostro id react container e fare in modo di di agganciare il nostro welcome button dentro il nostro container e quindi dire a react di fare render di questo componente react dentro il container dove abbiamo deciso di inserirlo vediamo a livello pratico quindi come facciamo a provare questa applicazione abbiamo visto un file html in cui sostanzialmente abbiamo il nostro container react e carichiamo il js che è quello che abbiamo scritto come codice javascript bene qui possiamo provare tutto direttamente senza nessun web server quindi aprendo il nostro browser caricando il file della cartella quindi index.js e questo sostanzialmente carica la nostra applicazione quindi proviamola vedete cliccando passiamo dall'italiano all'inglese ciao hello ok questo è caricato dal file system locale quindi abbiamo il nostro codice html che sostanzialmente carica le librerie javascript che corrispondono a react e poi carica il nostro main.js che è quello che ci consente di andare a fare le operazioni che abbiamo descritto nel codice quindi eccolo qua è quel file che abbiamo visto prima ecco notate che possiamo anche osservare dal punto di vista di react installando quel plugin che abbiamo menzionato quindi il react developer tools che è disponibile sia per Firefox qui nei plugin abbiamo installato ricaricato la pagina se clicchiamo su questo tab osserviamo la gerarchia dei componenti react presenti all'interno della pagina con le relative proprietà e lo stato e in questo semplicissimo componente non abbiamo proprietà abbiamo sostanzialmente lo stato che è un'unica proprietà è english true e nel momento in cui clicchiamo questa diventerà false e così via quindi sostanzialmente possiamo andare a fare anche un po' di debug a livello di componenti react come avete visto un piccolo esempio ovviamente non abbiamo usato avrete notato che non abbiamo usato l'html nella render che abbiamo visto prima negli esempi quindi il cosiddetto jsx perché diciamo in questo esempio semplicissimo che abbiamo voluto mantenere il più semplice possibile giusto per far capire come iniziare a vedere qualcosa di funzionante con react sostanzialmente non possiamo usarlo perché abbiamo bisogno di quel transpiler bubble che non è stato incluso se lo includiamo come vediamo poi tra un istante saremo in grado di fare la transpilazione cioè compilare quel codice html in codice javascript direttamente al volo tra l'altro questo verrà fatto direttamente nel browser perché facciamo in modo che il codice javascript sia caricato e eseguito nel browser che ovviamente non è la cosa migliore ma diciamo in fase di sviluppo questo può andare poi ci saranno nel momento in cui sviluppate un progetto react diciamo fatto per andare in produzione quindi su un'applicazione vera ovviamente questa operazione andrà fatta prima del rilascio dell'applicazione stessa quindi non verrà più fatta nel browser in questo momento non funziona all'interno di un server web quindi abbiamo fatto una prova semplicemente statica e quindi ovviamente con tutte le limitazioni nel caso non possiamo usare l'import abbiamo problemi di cross origin eccetera e tutto il meccanismo diciamo un po' grezzo per andare a diciamo creare tutte le infrastrutture necessarie a sviluppare un'applicazione react con tutti gli strumenti di lavoro tipici possiamo usare questo sistema quindi usare npx che è il modo che sostanzialmente abbiamo per eseguire uno script senza necessità di scaricarlo che è questo create react app che è stato preparato dai creatori di react e che sostanzialmente ci consente di scaricare tutto quanto necessario di configurare come deve essere configurato tutti i pacchetti necessari per lo sviluppo con react e sostanzialmente ci crea una nuova cartella che è il nome che passiamo qui come parametro dello script in questo caso react first vengono scaricate tutta una serie di pacchetti che sostanzialmente sono quasi tutto dedicati allo sviluppo con react quindi vari traduttori piuttosto che altri strumenti e così via configurati e tutto viene preparato per essere diciamo pronto per lo sviluppo con il layout che andiamo a vedere tra un istante tra l'altro viene anche incluso un server web che è sostanzialmente quello che faremo partire poi una volta finito tutto questo lavoro di scaricamento entrando nella cartella con il semplice npm start e quindi potremmo puntare il nostro browser a localhost 3.000 e cominciare a sentire quindi a metterci a scaricare sostanzialmente la pagina web di indice che ci caricherà tutte le altre risorse notate che in questo ambiente di sviluppo sostanzialmente avremo lato server un server che non è express ma diciamo qualcosa di molto simile che si accorge poi automaticamente di tutti i cambiamenti che andremo a fare lato server e in più parlerà anche con il client solamente in questo ambiente di sviluppo in maniera che non dobbiamo neanche ricaricare la pagina del client quando andremo a fare delle modifiche sul JS che abbiamo modificato lato server quindi questo è estremamente comodo e diciamo fa parte di questi 270 megabyte che scaricate che effettivamente all'inizio possono sembrare tanti soprattutto rispetto alla dimensione della libreria di React che è sostanzialmente estremamente limitata e questo ovviamente ci fa piacere perché sostanzialmente vuol dire che per portare in produzione un'applicazione che usa React non abbiamo necessità di includere troppo codice sostanzialmente queste librerie non le avevamo detto prima però sono sostanzialmente molto piccole e sono poi le librerie di cui abbiamo necessità nel momento in cui dobbiamo far girare la pagina un po' come per chi lo conosce quando avevamo il jQuery dovevamo caricare il jQuery e qui invece usiamo per esempio questa prima librerie React è comune a tutti i framework basati su React che è estremamente piccolo a 5 kilobyte e poi diciamo c'è la parte che interagisce con il DOM perché React è fatto in maniera da poter funzionare anche su piattaforme differenti magari qualcuno di voi ha sentito parlare di React native queste cose noi però ci occuperemo solo della parte browser quindi dobbiamo portarci dentro questa parte DOM quindi questi sono parliamo di kilobyte mentre qui questo invece è l'ambiente di sviluppo che trattasi di più di 200 megabyte però nel momento in cui andiamo a pubblicare poi tutte le informazioni sostanzialmente questo ovviamente non sarà da pubblicare e in più non sarà neanche da caricare sui sistemi di controllo di versione su git e così via perché ovviamente sono moduli che possono essere aggiornati gestiti in maniera completamente indipendente e quello che è importante di cui volete tenere traccia è sostanzialmente solo il sorgente volendo dare un'occhiata a che cosa è stato creato diciamo che abbiamo voluto creare una my app e avremo una struttura delle cartelle di questo tipo quindi avremo node modules dove sono installati tutti i moduli col package json che chiarisce le dipendenze eccetera eccetera e poi avremo una cartella public che è quella che contiene le risorse statiche quindi in particolare l'index gs e index scusate html che è quello diciamo creato automaticamente da react e che normalmente non abbiamo bisogno di modificare sarà tutto ricaricato in maniera automatica quindi non abbiamo neanche più quel problema di usare il node bon nel momento in cui modifichiamo qualcosa perché il browser capisce e diciamo scusate il server web capisce che abbiamo modificato qualcosa e si rilancia automaticamente e poi abbiamo la cartella src dei sorgenti in cui andremo a lavorare abbiamo due file importanti almeno inizialmente in questa cartella che sono l'index index.js che è di nuovo creato in maniera automatica da react e contiene react.dom render che abbiamo fatto a mano prima per montare l'app che quindi sarà il nostro primo componente componente che contiene tutto nell'elemento root che quindi sarà presente con id uguale root nell'html e poi ecco abbiamo il search app.js e qui dentro finalmente possiamo andare a scrivere il nostro codice quindi sviluppiamo qui dentro e ovviamente qui dentro possiamo fare tutto incluso importare altri componenti eccetera c'è ancora un ultimo file che vale la pena dimensionare questo app.test.js che contiene i test eseguiti nel momento in cui diamo sulla linea di comando npm test giusto per verificare che sia tutto a posto quando sviluppiamo e abbiamo necessità di provare questa è la struttura del codice diciamo di quello che ci troviamo in app e quindi abbiamo ovviamente l'import di react e e quindi nel momento in cui volessimo riprodurre l'esempio di prima ovviamente dobbiamo avere qui è fatto con una funzione l'app un componente app che ci ritorna quello che vogliamo fare e quindi quello che vogliamo fare è sostanzialmente un codice html che contenga il nostro codice che quindi era ladder welcome più il componente react vedete che lo scriviamo in questa maniera direttamente così come se fosse un elemento html poi di nuovo questo verrà convertito il codice javascript da babel e capisce quindi che questo è un componente react che avremmo importato dalla stessa cartella ricordate appunto importa dalla stessa cartella e qui c'è il welcome button che ovviamente dobbiamo scriverci e lo scriviamo come estensione di react della classe react component e questo è quello che avevamo scritto prima con in più un'istruzione che ci consente di far funzionare poi il click e questo lo impareremo poi più più avanti quindi per poter far funzionare correttamente il dis sostanzialmente nel handle click e poi ha il suo metodo render che ci ritorna il button questa volta ritorniamo direttamente l'html quindi non più creiamo virgolette button eccetera come facevamo prima ma direttamente l'html con un click uguale dis handle click che direttamente la funzione e con il suo valore quindi con le graffe notate senza il dollaro e con questa annotazione con le graffe sostanzialmente questo è il codice javascript che può essere direttamente interpretato e verrà lasciato così com'è nella fase di transpirazione dall'html al javascript e ovviamente poi ricordiamoci di esportare il welcome button perché deve essere visibile qui nell'altro file vediamo a livello pratico come funziona quindi io mi sono posizionato in una cartella vuota apro un terminale e quindi vado a dare il comando che dicevamo sulle slide dicevamo npx create react app con un nome quindi npx create react app e diamo un nome react first così tanto per dire che è la nostra prima come vedete si mette a scaricare tante cose ci vorrà il suo tempo quindi lo lasciamo andare avanti ed ecco che finalmente ha terminato dopo due o tre minuti perché ha dovuto scaricarsi un bel po' di cose e questo è il messaggio che ci lascia quindi sostanzialmente ci dice di fare quello che già suggerivamo sulle slide cioè npm start per lanciare il server di sviluppo che è quello che monitora i file e quindi col quale poi si può iniziare ad andare a lavorare quindi facciamo npm start come suggerito anzi in realtà vi chiedo scusa prima entriamo nella directory e facciamo npm start npm start e quindi ci lancia il server di sviluppo qui in realtà mi ha voluto aprire chrome che non era quello che volevo farvi vedere ma fa lo stesso ci ha aperto un browser apro l'altro che appunto localhost localhost 3000 e quindi ci suggerisce ovviamente di editare sourceapp.js come avevamo avevamo già suggerito quindi questo è il plugin di react vabbè ma questo diciamo ovviamente non c'è niente da vedere in questo momento quindi torniamo sul nostro video studio ho ingrandito il terminale per comodità e possiamo cominciare a lavorare andiamo quindi a aprire react first troveremo src e troveremo l'app js in cui c'è già diciamo quell'app di esempio che sostanzialmente andremo a cancellare se volete tenete se no di nuovo 270 megate da installare vabbè comunque diciamo che sostanzialmente dobbiamo andare a modificare qui dentro e c'è già tutto diciamo messo e quindi diciamo questa roba non ci serve e noi volevamo scrivere function app quindi return div class name app e volevamo metterci dentro le nostre cose quindi diciamo h1 welcome e e poi il welcome button che ovviamente qui non è ancora conosciuto che è il nostro componente che andremo a creare e sostanzialmente qui abbiamo terminato notate vabbè chiaramente welcome button non è ancora definito e dobbiamo ovviamente crearla e lo creiamo qui sotto src quindi creiamo un nuovo file welcome button js e welcome button che andiamo a prenderci così non partiamo tempo e ovviamente il codice vi verrà messo a disposizione e facciamo semplicemente l'incolla ed è quello che abbiamo scritto sulle slide quindi abbiamo il nostro welcome button render click render e abbiamo esportato perché è un modulo e quindi dunque salviamo quindi facciamolo esplicitamente file save e dobbiamo importarlo dentro app e quindi dobbiamo fare import welcome button che ci viene suggerito from .slash quindi salviamo e notate che viene compilato c'è qualche problema diciamo vabbè possiamo essere più espliciti welcome button js così non ci sono problemi quindi andiamoci a vedere il progetto nel browser e andiamo a vedere effettivamente localhost 3000 ricarichiamo e ovviamente vediamo la stessa cosa perché abbiamo fatto la stessa cosa e quindi però questa volta vedremo il file questo file html non l'abbiamo scritto noi è quello che era già presente di default con la sua div app e sul quale è stato montato il contenuto che abbiamo inserito da codice javascript quindi codice javascript ovviamente abbiamo la nostra roba quindi oltre a tutto il resto che si porta dietro il react il nostro welcome button eccetera possiamo vedere i componenti i componenti saranno come prime quindi nel momento in cui ecco no in realtà c'è il componente app perché di default ci ha creato il componente app che contiene dentro il componente welcome button welcome button che ha come prima lo stato english true rendered by app perché è componente pad e ovviamente funziona come prima quindi sostanzialmente siamo stati in grado di far funzionare il primo esempio diciamo nella modalità in cui andremo a lavorare che è quella di utilizzare il react creator e act app e da qui chiaramente poi possiamo partire a fare tutte le modifiche che desideriamo notate ancora un'ultima cosa ovviamente è stato compilato compilato nel senso che nel senso che appunto c'è da gestire tutte queste questioni relative diciamo a verifica che questo html sia corretto eccetera e in parte verrà compilato all'interno del browser e come ci viene detto nel browser nel browser se noi apriamo il nostro plugin ecco tra l'altro ci segnala appunto che è usato è creato con un build di sviluppo di react che chiaramente non è adatto diciamo per rilasciare un'applicazione però va bene così perché per noi diciamo noi stiamo facendo appunto sviluppo e quindi una delle cose che succede per esempio che la compilazione appunto non è particolarmente ottimizzata e così via ok quindi volendo possiamo andare a lavorare e lavorare qui dentro e faremo così per sviluppare il resto per andare a provare le varie possibilità offerte da react avendo avendo visto quindi questo primo esempio di come funziona react quindi ho provato a sviluppare un primo semplice semplicissimo componente che cosa ci aspetta nelle prossime lezioni c'è una lunga strada come vedete nel senso che dovremmo imparare bene come sono fatti i componenti come gestire le proprietà imparare che cosa possiamo fare qual è la sintassi di questo JSX come avete visto è abbastanza comodo da utilizzare come gestire lo stato quindi quello del meccanismo del set state come gestire gli eventi i form il ciclo di vita in generale dell'applicazione e poi come gestire diverse viste quindi introdurci il router e poi come gestire gli UX che sono uno dei paradigmi diciamo così emergenti in react che sembrano prendere particolar piede diciamo per realizzare tutta una serie di funzionalità di gestione dello stato la lezione per ora termina qui e vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima lezione